Beatrice Tagliatesta è in direzione marketing del Padiglione Italia, manca poco tempo all'Expo 2015. Oggi è qui a Bologna nell'ambito di un convegno dedicato al mondo del biologico in anteprima per Sana a presentare un po' a chi ancora non la conosce che cos'è questo evento, che è davvero un vero e proprio evento per il nostro paese, l'Expo 2015. Allora, se dovesse descriverlo, che cos'è questo Expo e perché è importante per il nostro paese e per noi? Expo 2015 sarà una manifestazione, più che altro un evento che nascerà e si svilupperà durante il semestre espositivo che partirà dal 1 maggio 2015 e terminerà il 31 ottobre 2015, dove l'Italia avrà l'occasione del vero rilancio economico. Il rilancio economico nel senso di turismo, di raccontare le capacità e le possibilità che l'Italia ha di far venire fuori, di far germogliare tutto quello che è l'innovazione tecnologica di prodotto e di filiera nel campo dell'enogastronomia. Avremo a disposizione un luogo fisico, che è quello del Padiglione Italia, quindi dove si svilupperanno il Palazzo Italia, che sarà la vera legacy materiale di questo Expo, e le zone espositive del Cardo, Nord e Sud, ricordandoci sempre che Expo non è una fiera, ma è una possibilità, una vetrina che l'Italia ha a disposizione per raccontare e per dire in modo culturale, in modo scenografico, che cosa ha il sistema paese da dire in merito al tema. Avremo quindi una possibilità di raccontare i territori e le imprese che fanno dell'Italia un paese innovativo e che ha davvero numerose cose da dire sul tema dell'alimentazione, che è davvero inteso in senso vastissimo, con declinazioni davvero molto interessanti e suggestive, come ci dimostra l'evento di oggi. Ha parlato prima nel corso dell'intervento, ha usato il termine vivaio, nel senso che sarà un'opportunità e una possibilità di incontro e anche un fermento culturale, ma non solo, per tutti quelli che vi parteciperanno? Esatto, il vivaio è il concept di base della nostra presenza come paese ospitante e come paese partecipante. Il concept che la dottoressa Bracco, che è il commissario generale del nostro Padiglione Italia, ha voluto fortemente e che stiamo sviluppando in tutte le aree espositive del Palazzo Italia e dell'area del Cardo. Il vivaio è inteso come il luogo fisico, nel senso di Expo, ma poi virtuale, nel senso di possibilità che da Expo si svilupperanno. Quindi un luogo dove il germoglio, il seme della capacità, della genialità italiana prenderà forma. Grande focus si daranno anche i giovani, che sta appunto al tuo tema, che sta molto a cuore alla dottoressa in questo momento di crisi. Quindi Expo diventerà, in particolare Padiglione Italia, un trampolino di lancio anche per le giovani generazioni. Il vivaio è un luogo dove il germoglio cresce e viene custodito lo stesso, sia nella geografia, diciamo nella architettura del palazzo stesso, che è fatto proprio come un vivaio. Cercheremo di trovare gli spunti e i modi di raccontare, quindi di far germogliare la nostra capacità in termini di sistema paese e di custodirlo, vuol dire cercheremo di trovare le occasioni di rilanciare anche e di valorizzare chiaramente il sistema paese in senso davvero ampio, quindi non solo... Un'ultima breve domanda. Il gergo è molto agricolo e connesso all'agricoltura. Lei oggi si trova a un convegno di apertura di un evento importante per il mondo agricolo, che è quello del biologico, il sana, che si aprirà domani. Ci sarà un'attenzione dunque particolare nei confronti di questi temi, alimentazione, cibo, biologico, insomma un focus anche su questo ci sarà. Il titolo stesso ci aiuta, dicevamo che c'è una possibilità di declinazione del tema stesso molto importante all'interno del palinsesto degli eventi, quindi all'interno di tutta l'area diciamo un pochino più scientifica che svilupperemo, ma anche in termini di filiera, quindi avremo modo di raccontare fisicamente e di far vedere i vantaggi, le capacità, le caratteristiche come oggi vengono esposte di un'agricoltura sostenibile, sia in termini di tecnologie di prodotto che di prodotto finale. Quindi ci saranno delle occasioni che dovremo chiaramente costruire insieme alla filiera, agli organizzatori stessi.